Ciao ragazze e ragazzi, sono Govinda e oggi giocherò a Make Sure It's Closed, un indie horror game che è stato creato per rappresentare una cosa che faceva paura lo sviluppatore quando era bambino. Se anche voi amate gli indie horror game, iscrivetevi al canale, cliccate il pollice in alto come sempre ragazzi, vi invito ad essere numerosi ed iniziamo, guardiamo di cosa si tratta. Allora, inizia con una lettera che fa Ma perché vai con i Russell? Perché vai a fare una cena con i Russell e sicuramente lasci me solo il bambino a casa con degli sconosciuti, con delle persone che vogliono entrare in casa? Perché? Perché non lì? Vai, vai lì, vabbè. Ok, era la voce di papà. Ok, va bene, ti amo anch'io e click to continue. Quindi questo bambino è stato lasciato da solo, a casa. Oh, allora space, push the button, mouse to look. Ok, semplice, semplicissimo, è un gioco semplicissimo, molto lineare. Guardiamo, guardiamo. No, no, chiuditi, chiuditi. No dai, chiuditi. Ti chiudi? Cosa è successo? Richiuditi, va bene. Allora, oh, l'ho visto, l'ho visto. Chiuditi? Ti chiudi? L'ho visto? No, chiuditi. Va bene. Ecco. Che succede? Non si accende niente. Va, io se fossi lui prenderei quelle cose lì. Andiamo dentro. Oddio, le gambe. Le vedete le gambe? Questo gioco mi ricorda un gioco a cui ho giocato tempo fa che si chiamava First Winter. Cosa stai scrivendo? Sembra che stia scrivendo qualcosa sulla... Oddio. No, ok, non aprire. Non aprire. No, 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 va bene così. No, chiuditi, chiuditi. Oddio. Ti chiudi? Chiuditi, 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 chiuditi. Bene, benissimo. Oddio, sta entrando! Ma chi è? Make sure it's closed. Ok. Questo era, ragazzi, make sure it's closed. Wow, breve, breve, però intenso. Devo dire, allora, come sempre, ragazzi, io vi faccio i commenti a caldo alla fine di ogni mio video e lo faccio anche oggi. Quindi, allora, cosa penso di questo gioco? È breve, però riesce a rendere di molti altri giochi gratuiti e anche non gratuiti che si trovano su ICO, su Game Jolt, su Steam, sulle varie piattaforme. Quei giochi, magari, quegli indie horror che durano un'oretta, due. Però, alla fine, sono sempre la solita solfa. Invece, questo qui ha un qualcosa di originale. Mi piace molto la grafica, anche se l'ho vista in passato, come ho detto, su First Winter. Mi piace anche questo concept che è molto Five Nights at Freddy's, ma anche altri giochi a cui ho giocato nel canale. Soprattutto mi riferisco a Darkness Dwell, perché anche lì devi sopravvivere, devi superare delle... Cioè, è un po' lo stesso concept di Five Nights at Freddy's. Quindi lo trovo molto interessante, ecco. E poi, che dire, semplice, diretto, e quindi questo mostro finale che in modo molto sorprendente riesce ad entrare nel garage. Quindi, ragazzi, se voi avete paura del garage, cliccate il pollice in alto. Vi ricordo che sul canale trovate tantissimi horror games paurosi. Sapete, Isola delle Rose TV è il primo canale YouTube italiano che vi porta gli indie horror più sconosciuti e più strani del mondo. Quindi dovete iscrivervi sopra al canale. Ci tengo. Vi ricordo che anche io sto cercando di raggiungere mille iscritti. Quindi, fatemi un favore. Dove aver visto questo video, condividetelo sulla vostra bacheca su Facebook, su Twitter, su Instagram, su Google+, che già è morto, non esiste più. Comunque condividetelo su qualsiasi piattaforma. Vediamo se riusciamo a raggiungere mille iscritti, perché naturalmente, come dico sempre, più siamo, meglio è. E basta. Ragazzi, io vi saluto. Govinda vi saluta. Pensa giocando. Grazie a tutti.